E' quando che ascolto questa musica con questo violino? Che non mi frega più un cazzo e vado a fare la merda nel Dombino. Da quel determinato commerciante o da quella determinata commerciante voi andate di fatto, de facto, a, diciamo così, trovarvi nel comfort zone, no? E quindi lui o lei vi saluta, no? Buongiorno, eh, come vai? Tutto bene, signor Leano, tutto bene. Poi all'improvviso per la strada, qui davanti a me potrebbe palesarsi, guardate la tundra, la tundra, guardate che spettacolo, dove sei, dove sei caro sindaco, sindaca, dove siete, dove siete organismi preposti alla pulizia delle strade, non lo so. Ecco che, sentite che puzza di piscio, di urina, che schifo, qui mi sa che urinano la notte. Ci sono gli scrementi umani. ASIARGE! Ma che stai a fa'? Ricordate che i squali stanno arrivà! Hello! Hello! Close Shards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Siamo qui con grande gioia, con ASIARGENTO! Ospite in studio, il top! Come va? Che bello questo spugnotto rosa! Eh, questo è giorno in pretura, partiamo subito. Lo studio è impregnato di sostanze psichedeliche, psicotro. È la prima cosa che ha detto, appena è entrata. Sì, davvero? È impregnato, se non volevo dire infregnato subito, perché magari, capito, mancava male. Ora che ci sei tu, lo possiamo dire, ora che ci siete tutti, l'ho detto, è infregnato, è infregnato di sozofumo, diciamo, potenziometri. Sì, 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 tutte cose, diciamo, che modificano. Sì, è un po' modificato questo studio. Decisamente, modificatori ambientali, anche se grazie al regista abbiamo un po' depotenziato il potere del fumo, perché ci ha messo, eh beh, qualcosa sì, sono tipo le presenze, cioè le puoi scacciare, ma qualcosa rimane sempre. Sì, gli spiriti. Allora, carasi, in realtà io ho recuperato qualche tua intervista negli ultimi anni. No, in serio? No, perché lo faccio, perché ovviamente vorrei evitare domande che ti fanno tutti, no? Quindi mi piacerebbe che tu ci parlassi un po' di cinema, perché ho visto poco cinema nelle interviste che ho ascoltato. Infatti, tutti scandali. Brava, ti chiamo sempre stessi. Ha scopato quello, quello t'ha violentato. Devo non alzare lo share. Devo non alzare. Queste domande del cazzo da scopo a un culo, da copione, che se non rispondi poi si incazzano pure, capito? No, però pagano, eh. Quando rispondi da scopo a un culo, poi dopo ti pagano un botto. Quello sì. E se irritano, se uno giustamente dice, cioè, guarda, oppure non mi sembra il caso, magari eh, si irritano. Ma io rispondo tutto, rispondo, perché più sono grevi così, più è divertente, dai, diciamo. Vabbè, poi noi non paghiamo, ma siamo simpatici. Ma voi sì, esatto. Meno male, meno male. Qua, qua proprio, anzi, ho avuto un incubo prima di venire, che qua mi facevate... No. Sì. No. No, che qua mi mettevate in difficoltà. Cioè, perché ero... Io qua vengo, come sono, vera e sincera, senza armi, cose, armature. Proprio, mi potete chiedere qualsiasi cosa, io risponderò alla verità. Di cinema, di cinema. Ma questo è certo. O della vita, però ho sognato che mi... Cioè, non in quel senso, che però io ero scossa interiormente. Beh. Da voi. Cerchiamo di evitare la profezia autoavverata. No, no, io ci sto, ci sto. Ah, ok, perfetto. No, allora, partiamo proprio dall'infanzia. Tu ovviamente hai vissuto in un mondo fatto di cinema, perché tra i miei genitori, no, regista, sceneggiatrice, attrice, quindi come ti ricordi i primi anni all'interno di questo mondo fantasy horror, no? Com'è stata la tua infanzia? Infanzia io non mi ricordo niente, l'ho rimossa. Non deve essere stata molto felice. Cioè, le cose che mi ricordo... Mio padre non mi portava sul set perché diceva sempre questa cosa che i bambini puzzano. Lui era dissacrante, capito? Amava dissacrare, i bambini puzzano di merda, i bambini no, non li portiamo. Ma Goliardico? Goliardico? Oppure lui ne era convinto. Era per dire che sul set sono difficili da trattare. Sì, che rompono le palle, quindi lasciava a casa. Poi lui andava a scrivere film da un'altra parte per farsi salire la para dura. Sì, doveva creare, diciamo, un ambiente che gli conferisse l'ispirazione. Si isolava, sì, negli hotel, quindi lo vedevo poco. Mia madre pure, cioè, stava a teatro, quindi non mi ricordo molto st'infanzia. Più in là, cioè, la primissima infanzia, un po' di magia, cioè, c'era un ambiente un po', un po', se proprio devo scavare, un po' bizzarro. Non era ancora normale. Tipo un'immagine che ti ricordi? La prima immagine che ti viene in mente? Mi ricordo che mia sorella diceva che aveva visto lo spirito di mia nonna che camminava per le stanze. Oppure mia madre che faceva le magie, c'era questa cosa, perché c'ho il sangue un po', gipsy, zinger, ebrea, brasiliana, c'è un bordello nel sangue. E quindi c'era molto mistero. A parte mio padre che invece era piccolo borghese. Però affascinato da questo lato di mia madre. Magie che tipo, se posso? Magie tipo bianche. Ok. Magie bianche. Magie rosse, magie bianche o verdi. Comunque, nere no. Nere solo nel cinema. Sì, esatto. Però studiamo, c'era un sacco di libri di magia che facevano paura quando gli aprivi e diceva, se fai così, quello gli succede così. Vabbè, tua madre è super appassionata di streghe. Infatti ha scritto su Spiria. Sì, lei studiava tutte queste cose. Io non ho mai fottuto con quella roba perché secondo me portava Jella. Non volevo, sentivo che a mia madre non gli aveva portato tanto bene fottere con quella roba. Quindi sono sempre tenuta... Un po' quella paura che ti rimane qualcosa attaccato addosso. Sì, tipo la cacca, se pensi che la vesti, poi ti pulisci la scarpa, ma ti rimane la puzza della merda dovunque vai. È singolare perché questo è esoterismo nella vita reale che magari ti fotte, invece il padre è esoterismo per l'intrattenimento alla fine. Cioè prendere ispirazione per intrattenere, alla fine non c'era niente di reale, no? Allora, allora, cioè di reale. Nella sua testa doveva essere molto reale. Secondo me, per riuscire ad avere queste ispirazioni e vedere queste cose... Cioè l'altro giorno avevo visto, ha fatto questo nuovo video per Salmo e Nois, e che in cui gli sfonda la faccia di Salmo col coltello, proprio una poltiglia, diventa sta faccia di Salmo. E sarà contento lui che? E lui così... Quella battutina con gli ardi. Gli hanno chiesto loro di farlo e lui ha fatto dare l'oggetto, giustamente. Cioè, allora te lo faccio fino alla fine, ti sfondo. Cioè, per riuscire a vedere queste cose, a me non è che mi vengono così. A noi, non lo so, poi magari, anche io di notte mi devo chiudere in un albergo, perché sennò i miei demoni, le mie ombre, chiamali come cavolo ti pare. Cioè lui ha delle visioni un po' forti. Secondo me, se mio padre non l'avesse avuto successo, forse sarebbe diventato matto. Ha trovato il modo di tramutarle in qualcosa di artistico. Diciamo spesso che i più creativi, se non avessero trovato la valvola di sfogo, sarebbero diventati dei matti. È vero. E spesso i paranoici sono quelli che sarebbero i migliori scrittori. Sì, tipo i artisti, è vero, è vero. Ci credo sempre di più a sta cosa, Carlo. È verissimo. La mafia mentale collegata all'arte è qualcosa di... E per il successo, perché neanche riuscire a fare le cose. È successo che allora ti dicono, bravo, bravo, allora vedi che è ok, che sto un po' svalvolato. Sono utile, cioè almeno faccio qualcosa che mi dà uno scopo. Che gli altri, in effetti, la paura è un sentimento necessario, perché uno impara ad essere coraggioso, ti esce attraverso i film, gente pavida. Se poi vedi il pubblico dei veri affissionati dei filmori, gente orribilante, e brufolosi, tutti i cessi, i nerdacchioni, i più brutti, sono i veri fan. E che forse anche loro esorcizzano così, delle loro, capito, pazzie, vabbè, ha ucciso lui, cioè Dario Argento ha ucciso tutti per me. Non lo devo fare io, così l'ho visto, ho goduto, era tutto finto, sono al cinema, ho goduto, cioè ho avuto paura insieme agli altri. Fra l'altro anche questo sentimento comune, un tempo si andava in chiesa a pregare tutti insieme, il cinema è anche una cosa, un sentimento comune che si prova. Ora sta finendo tipo le chiese, l'esperienza collettiva, che è un esorcismo bello forte, che si sta andando... Infatti poi tu sicuramente conoscerai ovviamente Demoni, il film di Lambertone e Bava, si basava su questo, cioè che uscivano dallo schermo i demoni proprio nella sala cinematografica. Sì, sì, c'era mia sorella nel film, che poi mi dava un demone addosso e diventava demone pure lei. Sì, c'era pure il 2. Tu stai nel 2. Io sto nel 2, sì, sì, è stato il mio secondo film, avevo dieci anni, però non mi aveva ammazzato là, ma non essendo suo il film di mio padre, voglio dire. L'ha prodotto forse? L'ha prodotto, sì. Io ho lavorato con lui poi a 16 anni, che ho già fatto altri film, e là mi ha iniziato a massacrare, ha aspettato, cioè nei film prodotti da lui... E' il sadismo di un padre! La galla, la galla! Esatto, ma tu hai una figlia di nome Asia. Tra l'altro mia figlia si chiama Asia. Ma che cavolo dici? Ti dico questo, allora quando uno seleziona i nomi per i propri figli, tendenzialmente, cosa fa? Associa i nomi positivi a persone che apprezza. Sì. Cioè lo fai sempre, questo è un bel nome, in realtà magari sono persone che stanno simpatiche a te nella vita, no? Sì, è vero. Quando abbiamo scelto questo nome, mi sei venuta a mente? Beh, certo, sono la prima Asia che è esistita in questo paese, no, però voglio dire, cioè, c'ho una certa età. Mi vengono in mente altre, cioè, a me se devo pensare ad Asia, mi viene in mente la via di Davide e te, effettivamente. Ma questo mi fa piacere, a parte il mio ego spropositato, però sono veramente... mi fa piacere quello che dici. Io ho lessi un articolo vecchissimo, si chiamava Il divieto di chiamarsi Asia. Sì, perché hanno cambiato la legge per me, perché poi tutti vogliono chiamare... cioè, quando sono nata io, mio padre andò alla... come si chiama? L'anagrafe. L'anagrafe. E dice, voglio chiamarla Asia, non si può, perché è il nome di un continente straniero. Allora mi ha messo Aria. Sì, infatti, tu c'hai tre nomi in realtà poi. No, sì, Aria, però sul passaporto c'è uno, Aria, non l'ho cambiato perché non si sa mai, magari... Certo. Scappa Aria. Pure bello Aria, tra l'altro. Aria non è male, infatti. È bello. Sì, sì. Poi è assurdo, perché loro vogliono farmi terra e invece poi questa qua si è impuntata e mi ha fatto aria. Comunque sia... Perché vi stavo distante? Sì, e poi tutti, dopo, quando ho iniziato a lavorare, negli primi anni 90, hanno voluto chiamare Asia, ma non si poteva ancora. E poi... Cani, bambini, bambine. Perché era il nome di un continente, quindi non si poteva dare... È una legge di Mussolini. È certo. Sì, degli anni... Tipo degli anni 20. Ah, sia Africa. Ma è successo il contrario, non puoi più chiamare Benito, un figlio. È tipo il contrapasso. È il contrapasso, vedi, delle leggi fasciste. I famosi danni del duce. Sì. No, quindi, ok, all'inizio... Allora, ci puoi chiamare Benito? No. Un figlio, no, no, non denuncia per me. Il tuo figlio non lo puoi chiamare Benito. Ne manco Adolf. E perché non ho lasciato l'obelisco Mussolini Dux? Vabbè, quella è una cosa storica. Sì, diventa storica, arte. Vabbè, pure il nome... Eh, insomma, infatti... Io sarei contrario a tutto, per me lo puoi chiamare come le pare. Ma a me... A parte non parliamo di politica che non me ne frega un cazzo. No, ma le brutte lo cambi, poi. Però questa cosa... Bravo. Mi siete trovati. Ma a me non me ne frega un cazzo di cos'è. Ma tanto è uguale, chi c'è, cioè, nel senso, non cambia niente. Esatto, esatto. Magari cambia qualcosa prima che devono essere eletti. Poi una volta che vengono eletti sono tutti uguali. Cioè, almeno, sembra un po' la cosa che direbbe... Max. No. E poi, come vedersi, so tenere uno e stavano così. Però, dalla mia piccola osservazione è quello. È per quello pure che poi non t'appassiona. Cioè, almeno parlo per me, ovviamente, ma andiamo avanti. Davide ha provato a chiamarla Benito, ma gliel'hanno rifiutato. Ragazzi, non è vero. Non mi diffamate in questo modo, per l'amore di Dio. Non ho mai fatto questo, no. E quindi, vabbè, cioè, in realtà, quando è però che viene a contatto col cinema, quindi? Ah, sì. Praticamente c'era sto regista, Sergio Citti, che era l'assistente di Pasolini. Insomma, un signor regista. Grandissimo. Che sin da quando avevo cinque anni diceva, tu devi fare il cinema. Poi in un romanaggio devi fare il cinema. Ma per la faccia diceva, c'hai un... C'è una cosa, cioè, io ero stranissima. Avevo un maschietto, un maschiaccio, un po' magrolina, capelli corti. Proprio strana, proprio per quello forse voleva. Una faccia che funzionava. Una faccia che funzionava. E poi a nove anni ha detto, dai. E mia madre non voleva. E poi si è impuntato. E grazie a Dio ho fatto questa cosa che mi ha salvato. Perché io ero troppo timida. Non sarei sopravvissuta. a scuola, non avevo amici, avevo un'amica. E invece là stavo nel mondo dei grandi. Tutti mi trattavano bene, gentili. Dicevano, oh, perché... Poi avevano bisogno di me. Quindi devono portare a casa la giornata. Certo. Quindi è meglio trattare bene. Quindi trattata bene, che a casa mia non era così. E ho detto, questa è... Insomma, è una figata. Che sei sbloccata un po', diciamo, caratterialmente. No. Non subito. Anzi, mi ha creato ancora più misantropia. Poi è lungo andare. Però, perlomeno, mi sentivo voluta bene. Cioè, mi sentivo far parte di una cosa. Che nella mia famiglia non avevo. Ero un po'... Cioè, sono cresciuta sentendomi diversa. Sia dalla mia famiglia che dagli altri. È proprio un sentimento innato. Dell'alcolista. Cioè, che se parli con gli alcolisti dipendenti è tipico sentirsi così. Ex. Cioè, non sono ex. Perché, diciamo, sono due anni e mezzo che non uso. Però sono... Once a junkie, I was a junkie, diceva Barros. E ti rimane un po' comunque quel tratto magari che te ne abbata. Scusate, sono andata tutti a ridere. No, no, ma qua si va dove ce va. Abbracci. Ma certo. Poi io salto un po' di pallone in faccia un cervello un po' bruciato. Quello che rimane... I link... Ma guarda... Ieri sera... Qua stai a casa... Sempre da partire dal regista proprio... Che ci inquadra. Vabbè, l'esperienza, ok. E quindi, vabbè, iniziato a essere inspirata del cinema e non volevo fare... Io volevo fare la scrittrice. Però poi ho detto, guarda, qua sto al centro dell'attenzione, una figata, fammi fare questo. Quindi eri timida, però c'era un po' di ego già che cominciava a venire fuori. Ma più che altro io... Oppure bisogno di apprezzamento. Ok. Bisogno di apprezzamento. In sicurezza. In più, interpretavo ruoli, quindi potevo essere altro da me, perché io mi facevo schifo. Quindi, essendo altro da me... La maschera. La maschera. E la maschera veniva apprezzata e io potevo fare quello che voleva sto personaggio, il regista da sto personaggio, non doveva essere io. Perché io ero... Non mi sentivo di essere bonafare. Niente, ancora ora... Cioè, non è che sono bonafare. Non fa niente. Però ho avuto il dono della longevità perché io faccio sto mestiere da... Mocio, 48 anni. Quasi 30 anni. Da 29 anni. E tra l'altro, cioè, sei una delle attrici italiane che ha lavorato di più all'estero. Cioè, penso che dagli anni 90 in poi è difficilissimo trovare un'attrice che ha lavorato così tanto fuori dall'Italia. Eh, infatti... Forse c'è pure il primato, non lo so. C'è il primato, per lo so. Ma guarda, se ci pensi... Sì, pure Monica Bellucci. Però è raro, eh. Molto raro. Pure lei negli ultimi anni ha fatto poco, eh. Sta nella serie di Lynch. Beh, puttavia. Tra l'altro, un bel personaggio gli ha dato. Però... Sono pochi proprio. Ma in realtà, pochi attori in generale. Ma infatti, non è quella... Allora, la donna, dai 40 anni in poi... Già dai 30 inizia la scena. La donna, dai 40 anni in poi, è finita. Ma è un problema pure di Hollywood. Aspetti che poi fa la zia, capito? La mamma... La vecchia, la vecchia. La vecchia, magari i risvolti, che se invecchi bene. Quindi alla metà è un po' difficile. Però io sculo che... Cioè, perché a me interessa il lavoro. I film sono due. O sui film che fai per soldi, o quelli che ti piacciono. Non è che ci sono tante altre cose. Però io devo campare. C'ho due film che campo io. Quindi, qualsiasi film che viene, ci penso. Ah, mi pagano bene? Va bene. Ora, i figli sono grandi. Quindi, per esempio, mo' sto partendo per l'Inghilterra che faccio un film e poi altri due film in Francia. Non diremo se per soldi o per piacere. Ovviamente questi futuri, però... Mezzo e mezzo. Mezzo e mezzo. Perché poi c'è anche il fatto di viaggiare, che è bello. A me piace. E quindi... Non è scontato questa cosa di continuare a lavorare nel cinema. Veramente... Quindi uno se lo fa con umiltà, che dice, ok, non volevo fare questo da piccolo, volevo fare la scrittrice. Però ho imparato a fare questo. Veramente mi sono specializzato. Hanno fatto tipo 60 film. Quindi lo so fare veramente bene. È una cosa che ho imparato a fare. Solo questa. Quindi sono contenta di continuare a farlo. Nel meglio delle mie possibilità. Cioè mi dà soddisfazione svegliarmi la mattina a lavorare con le altre persone. Non c'ho più quei grilli per la testa di pensare questo film mi porterà, io avrò quel successo, quella cosa. No, io penso come... Uno che ha il taxi e gli piace guidare il taxi. E viene pulito il taxi. Proprio un piacere. Cioè mi piace la città, mi piace incontrare la gente, mi piace... Capito? Ma hai ambizioni al momento di qualsiasi tipo anche fuori dalla capiera? Sogni? Di continuare a fare questo. A me così la mia vita mi piace. Continuare a fare sto lavoro... Però non è poco già. Sì, finché non muoio. Hobby invece preferiti, passatempo, durante il tempo libero, quando stai fuori dalla sfera lavorativa, magari la sfera della famiglia. C'ho i figli e c'ho il lavoro che prendono tanto. Leggo, faccio sport, un botto di sport, yoga, natura, basta. No, poi a volte, che ne so, frequento l'altro sesso. Anche c'ho questa app da poco che si chiama Raya. Raya? Sì. Ma con la J? Ah, con la Y. È una figata pazzesca. Laya può entrare solo per invito. Ci stanno solo i ricchi e famosi. C'è un'app di incontri per VIP? Sì. Sì, Raya. Non so molto. Posso ricevere lì? Posso ricevere l'invito? Non so se siamo abbastanza VIP. Non so se posso essere considerato ricco e famoso. Ma non è che ci stanno tutti i ricchi e famosi. Però Boni, beh, guarda. Io ho fatto una volta su Tinder, un giorno mi sono caccata sotto. Credo. Ma resti che trovi il killer. Domanda più gettonata. Ma sei fake. Ma sei fake. Ma sì, ma è impossibile. Dai, come cazzo fa? Ma se sei in te trovo. Io un giorno la faccio, ho provato. Perché per me è difficile incontrare persone. Dov'è che l'incontro? Solo al lavoro, praticamente. Al lavoro, però, chi li vuole? Quegli attori? Che inferno. Ma molto meglio i macchinisti. Però pure l'anno. Io devo lavorare. I numeratori di macchina. Non bisogna pisciare nel piatto dove mangi. Non è che poi vi potete accoppiare fra di voi. No, beh, già è stato fatto, però. No, no, per carità. Sì, sì, no. Mai scopato nessuno, nessun ospite. Mai successo. Mai fatto. Hashtag mai fatto. Mai fatto. No, no, mai fatto. Mai fatto. Mai fatto. Ma il fatto di rapporti nello stesso... Però gli ospiti vanno e vengono. Non è quello. È quello. È quello. È quello. Di trovare tutti i santi giorni, quello, devi guardare in faccia. No, no, no. Magari non vorresti più vedere. C'hai ragione. No, per carità. Ma secondo me c'è una legge. Chi prende il pene poi non viene in live. No, vabbè. Non è sempre così, Gianluca. Per quanto riguarda Vesirio. Ah, vabbè. Ah, prima, però, se te la sei scopata dopo. No, ma è nuova come regola. È nuova. Che ti bevi? Ti sanno a finocchio, vuoi? Ma la gradisco. Assaggia. Pensavo che c'è whisky e ho detto che sono un ex dipendente. Tisanina. Massa buona, calla. È vero. Calla. È calla. Calla a finocchio. Ti piace? Beh, ci vuole un po' di purè, eh? Un po' di purè. Mi sento un po' a marcio dentro. Un po' di purè. Un bel ripulistice vorrebbe proprio. Buona. In India, sono stata in India e ti fanno un sacco di clisteri. Ti puliscono tutti, ti fanno vomitare, ti fanno clisteri. Eh, io ho scoperto che qua davanti ci sta un posto che tipo ti rilascia i chakra, fa delle cose legate all'energia. Eh, ma ti fanno pure i clisteri e ti fanno vomitare. Spero di sì. Perché là è la chiave di tutto, eh? Perché se vuoi fare i pulisti devi andare profondo. Guarda, io ti farei tremila domande sulle esperienze sciamaniche. Ah sì, quello è interessante. È una cosa che beve, quelle cose lì che ti aprono tutti i chakra. Non ti aprono i chakra. Nel senso che un minuto che ti sembra un'ora, tutto d'introspezione, tipo profondità. Dura otto ore. Quella cosa mi incuriosisce molto come esperienza. Se la vuoi raccontare, secondo me. Allora, è un'esperienza profonda che secondo me non dovremmo parlarne all'acqua di Rosia. Perché poi per ognuno è veramente come fare 16 anni di analisi in otto ore. È vero che là vedi gli spiriti. Cioè, come vedi tutto come vedi qua. Non è come il trip. Cioè, io ho fatto un sacco di acidi ai tempi. Cioè, i rave sono iniziati quando ero a 14 anni. Andavo a rave, prendevo 15 pasticche e un acido ogni volta. Non è quella roba là. Me la ricordo, non è così. Questa è come se ti metti gli occhiali. E vedi tutto quello che c'è intorno a te. Spiriti, presenze. Che cos'è fisicamente proprio l'ayahuasca? È un... Allora, viene unito una... Perché al micro non si sente? Viene unito, perdono. Un vine, come si chiama? È tipo una pianta rampicante insieme a delle foglie. Che là c'è anche una parte di DMT. Vengono unite, cucinate, preparate per giorni. Le donne preparano... È la molecola di Dio, quella che viene chiamata così. Sì, che produce la ghiandola pineale. Tra l'altro noi tutti produciamo la DMT e viene rilasciata quando sogniamo durante la fase REM. Però è per questo quando prendiamo l'ayahuasca la ghiandola pineale se la succhia tutta e tutta contenta perché è come se avessimo bisogno di questa cosa. Di vedere tutto quello che c'è intorno. E tutto intorno io ho capito che... Cioè, io non credo in niente. E non è che credo... Cioè... Apprezzo chi crede in Gesù Cristo e queste cose qua. Però io credo nel mondo degli spiriti, credo nell'universo, credo in tante cose che... No, non stiamo a parlare, però grazie a questa esperienza. E... A me mi hanno operato gli alieni, oh. Cioè, sono venuti degli alieni che sembravano aztechi. Sai, i grigi lunghi? I grigi, come no? Noi amiamo i grigi. I grigi. Ci diamo spesso. E sono venuti. Mi hanno detto, possiamo operarti? Io stavo per terra, perché stavo malissimo. Pensavo a cagarmi addosso. E perché, ti giuro, perché ho caglio e vomito. Tipo gli indiani dell'Ayurveda. Però... E stavo là, sono arrivati questi grigi. Dice, ti possiamo operare? Mi fa troppo ridere il termine grigio. Grigi. Mi ha sempre fatto ridere. Ma non erano i grigi, quelli con gli occhioni, tipo aria 57. No, erano... C'erano pure dei cappellini un po' aztechi, capito? Però erano lunghi, lunghi e grigi. Vabbè, stavano stilosi. Alla moda. Dei grigi bohem. Esatto. Dei grigi modaioli. C'è una sorta di... De pannolone, uno straccio. Sì, sì, sì. Dei grigi bohem. Questo è l'uomo. C'è dei pandisegnino, comunque. Appendiamo da qualche pari. Lo faccio. Mi dice, ti possiamo operare? E ho detto, vai. Mi hanno sventrato. Cioè, mi hanno aperto. Ho fatto la panza. Ma non tipo fintitario argento. Cioè, era tutto pulito. Non c'era sangue. Però, tipo, ho capito? Linguetta. Hanno aperto il track. La zip. Esatto. Molto cronembergiana. E dentro c'erano i dadi. Sai i dadi dei bambini con le lettere e i numeri? Sì. I colorati. E dentro c'era scritto jealousy sui dadi. E ho detto, ma perché? E c'era mio marito, ex marito, che era, no, Morgan, l'altro, che era gelosissimo. E io gli dicevo a Grigi, ma non sono io gelosa. Dove è andata lui? Da lui. Lui jealousy, perché era americano. Jealousy. Poi, anni dopo, ho capito cosa volevo non insegnarmi. Che era la gelosinificato. Ho fatto il download file. Ci vogliono anni a fare il download di questi file dei Grigi. E poi dicevo, ah, ecco cosa voleva dire. Che la sua gelosia mi stava facendo ammalare. Mamma mia. Capito? Ecco, perché l'operazione c'ha tanto. Sì. Me l'hanno tolta. Me l'hanno stirpato col male. Lo stomaco che rappresentava. Madonna mia. E questa è una delle mille cose. Poi, mamma mia, sembra l'esorciccio comunque. Io, cioè, stavo malissimo. Non era, c'erano, vedi, quelli tutti contenti, chi vomita. Io stavo malissimo. Io ero tormentata da spiriti sofferenti, suicidi della mia famiglia. Però, pure là ripulisti. Feci un ripulisti. Però ora non lo rifarei. Adesso sei tormentata o serena? No, io sono serena. Per lo più. Poi mi arrivano dei momenti che mi fanno... Sono tristissima. Senza motivo apparente. I famosi picchi, i famosi picchi, magari... No, non bipolare ho avuto quelle cose. Però era dovuto alle sostanze. Poi vedo che ora è un po' più... Cioè, la nostra vita... Io parlo anzi per me. La mia vita è così. Cioè, ci sono delle cose allucinanti. Wow! E poi, oh mio Dio. Quindi è proprio la vita che è così, è stata così. Però ora si è un po' più calmata quest'anno. Meno male, la preferisco. E quindi mi arrivano delle malinconie. Delle malinconie. Tipo il mio compleanno, in quel periodo del compleanno. Mi è arrivata una malinconia. Ma non so perché forse mia madre è morta. o solitudine. Non lo so. È durata un paio di settimane e poi è finita. Questa cosa del compleanno c'ho un po' io. Ma non è il senso di proprio depressione. Però cerco di dimenticarmelo. È successo proprio stamattina. Pensate che caso. Allora, io ho un rito con un personaggio che avete conosciuto. Matteo Sessa. Matteo Sessa, che è un mio amico, diciamo, scolastico. Fa, compie gli anni, il 12 ottobre. Cioè oggi. Ah. Oggi è 12, no? Sì, 12. Allora, noi abbiamo questo rito. Non ci sentiamo ormai da anni. Poi è venuto qui per l'intervista. Ma purtroppo ci siamo un po' abbandonati l'uno con l'altro. Ma ogni volta su Messenger. Poi lo utilizzo solo per questo motivo. Solo per Matteo Sessa. Io mando questo messaggio. Auguri Boss. Grazie Boss. Il 18 ottobre, quando faccio gli anni io, lui fa. Auguri Boss. E quindi stamattina che ho mandato il messaggio proprio di rito a Matteo Sessa. Auguri Boss, auguri Boss. Bravo, cioè mi sono ricordato, cazzo, ma il 18 è il mio compleanno. Cioè ho pensato prima al suo che al mio. Sì, completamente. E che farai per il tuo compleanno? Nulla. Bisogna scappare. Ho capito uno. Mi ubriacero con il Duca. Ho fatto solo una cosa a questo mio ultimo compleanno. Ho fatto sì che non lo sapesse nessuno. Ma lo sanno, se lo scrivono. No, ma in realtà in pochi. Se lo scrivono, te lo ricordo all'agenda. Pure magari i migliori amici non mi hanno fatto auguri perché non lo sapevo. Eh, ma non volevo auguri, non volevo niente. Non volevo festeggiare niente. Ma perché va da sta malinconia il compleanno? Secondo me perché non ho fatto i trenta. Il compleanno non è una cosa... Non fa parte del mondo della natura il compleanno. È un'imposizione umana. È un'ossessione. Tu ti devi ricordare quando sei nato. Che gatto si ricorda il giorno che è nato? Chi se ne frega, non è importante. Perché ora poi mi dovete tutti celebrare e si incazzano. Io scappo in famiglia. Dicete, no, non andiamo a cena. No, non andiamo a cena. Se non ti ricordi costantemente che non c'è un'attenzione al tuo compleanno, tu lo dimentichi pure. Sì, sì. E magari non succede niente. Semplicemente... È bello solo da bambino. Sì. Perché ovviamente... Regali. E' quello che crea le aspettative che poi ti fanno venire la malinconia da adulto. Ma è infatti l'ultimo forse è quello dei 18. Ti dico tanto la sostanza all'inizio e poi... Bravo, tipo dopamina, no? Che tu dici, cazzo, è il mio giorno, vengono tutti gli amichetti, mi arrivano i regali. Poi ovviamente diventi grande se te che devi fare regali al massimo se hai figli e forse in quel senso rivaluti i compleanni come le festività altrui. Cioè nel senso il Natale, io ormai non... No, è l'inferno. Cioè me lo so sempre, l'ho sempre... Io ho due figli. Eh, però almeno dici, cavolo... Avendo una figlia vorrei che fosse bello per lei questi primi anni, lo rivivo con felicità. Però ovviamente quando cresci te ne dimentichi. Però poi quando sono più grande, perché mo' tu c'hai la figlia piccola, però poi quando hai sdoganato verso i 12-13 anni che devi finire, puoi finirla con queste cazzate, gli addobbi, regà. Cioè fa' sta finta cena con i padri e mi sorella. Perché io e la mia famiglia, non c'ho una famiglia, capito, cugini e cose, quindi mi tocca vedere i miei padri e i miei sorelli a fare sta pagliacciata perché almeno così gli danno i soldi ai miei figli, capito? Se no me li devo smazzare tutti. E poi è triste questa cosa che... Cioè tu alla fine sei quasi costretto, tra virgolette, a rivedere i tuoi parenti. Sì. In quelle situazioni là, magari te ne sei sbattuto per tutto l'anno. Dici dai, facciamo sta tombolata. Ma in realtà, cioè nessuno vuole veramente star lì. Sennò te ci saresti visto in altri contesti, no? Cioè per esempio mia cugina è l'unica forse della mia famiglia che ogni tanto sento. Cioè la sento perché mi fa piacere. Se poi c'è pure in quei contesti, bene, ma... Cioè... Tu la vedi però a parte quei contesti? Cioè la senti o la vedi e va? Cioè la vedi o la senti e va? L'ho vista in rare occasioni. L'ho vista in rare occasioni. Sempre cose familiari. Dico, non è che dici a Sanama prende cappuccio e cornetto. In passato c'era un bel rapporto proprio, era un'amica. Ultimamente pure lei ha avuto comunque una figlia, quindi come sai... Cioè ma io frequento poco le persone in generale. Sinceramente. Che figata! Una scusa in più per frequentare di me. Eh, nì, nì. No lo so te, io sono misantropa quindi per me è andata proprio a nozze la maternità. A me piace più vedere i parenti quando non c'è l'occasione forzata, nel senso. Ma lo stesso vale pure per i regali. Per esempio io detesto fare i regali e detesto pure riceverli. Però ti faccio un esempio. Magari c'è Natale, non faccio niente poi magari faccio un regalo a un parente a una persona ma non c'è motivo. A Natale però... E gli altri non si affendono? No, di pa' gennaio. Vabbè, ma magari non lo sanno, capito? Magari lo vanno a dire a tutti. La vivo più in maniera così. Poi a Natale, vabbè, io ho mentito perché sta in chat, c'è mia nonna che ci segue ogni giorno. Ciao, nonna Lucia. Io a Natale ho mentito ai parenti dicendo che ero impegnato, c'ho avuto a fare. In realtà ho passato tipo vigilia e Natale da solo rinchiuso a casa. A parte di Medecan. Anche, sì, sì. E capito, quindi è un po' così. Però da parte mia è pure per il cambiamento che c'è stato per la famiglia. Io sono nato con entrambi i genitori e otto nonni. Otto nonni? E quanti? Bisnonni. Esatto. Tutti e quattro i nonni e quattro bisnonni da parte... Buoni geni però, eh. Da copularci, cioè da figliarci. Beate che ti sei... Però aspetta, poi c'è il twist. Mo' sono rimasto solamente con nonna materna e papà. Scusa. Sono morti tutti. Noi no. Eh, vabbè, però... Mi sono arrivato solo con una nonna e un papà. Sono rimasto adesso. Anche età sono arrivate? Beh, allora, da parte... Hanno figliato presto, ecco. Esatto. Da parte di mamma, sì. Quindi io ho, praticamente, il fratello più grande di papà che ha la stessa età di mia nonna materna. Wow. Perché c'è tipo un salto di una generazione. È un papocchio. Quindi sono nato che da parte di mamma c'avevo tutti i bisnonni. Il mio bisnonno, invece, faceva finta di dimenticarsi gli anni. Ma in realtà era molto lucido perché è morto tipo a 93, tra l'altro. 93 o 94 guidava fino a 86, una cosa del genere. Da pazzi. Però lui ogni anno facevamo il compleanno e faceva sempre vabbè, ragazzi, allora, l'ultimo mio compleanno oggi faccio 90 anni. Ma no, sono 91, 92. Però c'è un bel ricordo suo. Si chiamava Leonardo, tra l'altro. Leonardo, Leonardino, detto Dino. E lui, pure, c'era questa cosa e mentiva facendo finta di essere rincoglionito. In realtà no. Perché su molte cose era lucidissimo. Però sull'età, eh Leonardo, sì, faccio 89, farò 92 in realtà. E io farò lo stesso. invenzione alla fine. Sì, però tanto dicono è vecchio, rincoglionito, in realtà no. Ma la tua passione per il cinema? Ora faccio il reto mandato. Cambiamo ruoli, cambiamo ruoli. La mia passione per il cinema, vabbè, al di là della parentesi Disney che quelli della mia generazione hanno avuto per forza. Quindi, ebbè, io sono del 91. Considera che mi sono mangiato le videocassette di Disney costantemente. quello c'ha avuto, scusami, però Disney è iniziato a curire la parentesi al cinema. Sì, però io... E c'avevo il Betamax. Sì, però un video. Però è solo che a casa mia il Betamax si guardava, cioè, tutti i film di mio padre, non aprite quella porta, cioè, c'erano solo film tremendi, non c'era Cenerentro. La nostra era però quello di VHS, cioè, e quindi c'avevi tante VHS in casa, anche non andando al cinema, ti potevi mangiare un sacco di film, ero consumate tutto. Ti guardavi a rotella, così. A manette. Poi lo step è stato... Ma li affittavi o ce l'avevi? No, no, ce l'avevo, alcune pure tarocche, taroccate, però sì, le compravo col bollino quello, solo marchi originali con un video. Diciamo che lo scatto poi c'è stato con Barton e Selick in The Nightmare Before Christmas, perché era sempre un cartone, quindi i miei me lo comprarono dicendo, vabbè, è un cartone, in realtà, era una cosa un po' più complessa di un cartone per bambini e basta, essendo molto horror, e quindi da là ho detto, ok, voglio vedermi gli altri film di questo regista, quindi poi Beetlejuice, sedo ormai di forbice, allora sono andato oltre, diciamo, i film d'animazione, e poi è arrivato, diciamo, Fellini con la dolce vita che vedi casualmente in tv, un giorno, non c'è un niente da fare, mi piacque e dissi, cavolo, continuiamo a vedere i film del sto regista, e là, poi, mi si è aperto tutto il cinema italiano, ogni 50, 60, Dario Argento, Mario Bava, tutti, e quindi anche il cinema del genere mi ha appassionato tanto, poi l'horror, vabbè, quelli stodici, da quello che mi dici, un po', tipo monomaniaco, cioè, tu trovavi quel regista e ti vedevi tutte le cose del regista, era un metodo, anche io c'ho sto metodo, era un metodo, perché se no andavi a caso, poi, magari a 12 anni, 11 anni, non è che utilizzavo internet più di tanto, quindi, magari dicevo, boh, però sto stile mi piace, c'è un codice che io comprendo, trovavi quelli di quel genere là, in quel periodo, e poi magari mandavo, che ne so, un po' più grande, mandavo a comprare tutti i DVD, o questo, di quel regista lì, o anche, l'ho fatto solo per un paio di attori, cioè Mastroianni, che mi piaceva molto, e un altro paio di volonté forse, però il resto da tutti i registi, tutti, da Dario Argento, prendo tutto quello che c'è, top uber, tutto, o escravo, e tutto. Gli attori, fanno anche tanti film, voglio dire, quando un regista è bravo, è difficile che poi, magari sbaglia un film, però ti piace lo stile, l'attore è prezzolato, come dicevo io, va là, va qua, c'è il mio grande maestro, Abel Ferrara, che diceva, non vuol dire un cazzo, essere bravo in un film di merda, cioè nel senso, come attore, puoi essere bravo quanto ti pare, però magari puoi fare un film di merda, però non è colpa tua, è colpa del regista, se il film è di merda, tu magari ce l'hai messa tutta. Sì, ma infatti, quei codici lì, che mi piacevano, li ritrovavo poi negli altri film, in forme diverse, e quindi avevo anche, un modo per valutare tutto l'operato, cioè aveva più senso, ma penso anche con la musica valga, Simo, magari l'approccio iniziale, ti senti un gruppo che ti piace, magari ti fai tutta quanta discografia, pure a livello tuo culturale. Mi mancava vedere proprio, ogni strumento cosa faceva, perché volevo capire come era fatta la musica, e da là mi sono ossessionato, sì. E tu sonavi? Sì, ho iniziato a suonare il basso, a 15 anni, poi vabbè, mi sono appassionato, alla fine suono tutto, cioè il pianoforte, la chitarra, poi l'instrumentista, e la cosa principale che faccio è scrivere, scrivo pure da prima che iniziassi a suonare, e ho scritto la sigla di questo podcast, e faccio delle canzoni, e c'ho il gruppo, e suono, e niente, che cosa mi volevi chiedere sulla musica? che uno diventa, che diventa un'affermazione, era un metodo diciamo, un'ossessione, che diventa essenzialmente, no, rimane un'ossessione, e vuoi esprimerti attraverso essa, e niente. Ma scusa, tu hai messo, e tu qual è la tua ossessione? Eh, non si può dire live, dai, non posso, non posso parlare, io ho detto tutto, non posso rispondere a questa domanda, eh, ma io c'ho, capito, poi io li vedo ogni giorno loro, non si può, non si può, va bene, poi dopo la live te lo dico. No, guarda, è singolare che, io non sto mai in difficoltà, tranne quando si parla di queste cose, è incredibile, no, ma è vera, quasi va proprio a, a toccar, sì, 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 l'ombra, qualcosa di cui non mi piace parlare, ma mi piace fare, cioè capito, quindi quando mi chiedono, parla della musica, sì, la musica è questo, però non è, sembra che sminuisce, esatto, no, scusa, ma non te voglio mettere in difficoltà, che mi era venuta l'associazione, no, magari pure uno che ama la musica, c'è un processo simile, è una cosa mia, infatti, mica era dovuto che andassi in difficoltà, tanto era dovuto, e attualmente tutte queste cose, me le vivo con difficoltà, la cosa che mi manda avanti, è poter esprimere la mia arte, anche se alla fine la mia arte, la veicolo sparando cazzate in live, quindi, impara l'arte, spara l'arte, io vorrei ucciderla, io vorrei ammazzarla facendo, tipo, se è proprio un po' questa cosa qui, un palla da reagente, ma Gianluca è un grande performer, io quando ero piccolino, dicevo, che da grande, sarei diventato famoso, perché diventavo un attore comico, volevo fare il comico, volevo fare ride, mi è sempre piaciuto scrivere, infatti a 13 anni, che era una cosa inusuale, ho iniziato a fare happy pop, eravamo presi per il culo, poi c'è stato il grande boom, dopo 3-4 anni, e l'eroi diventato figo, però inizialmente fu traumatica, io venivo bullizzato, solo perché rappavo, tipo, in terza media, primo superiore, quindi che anno? 2005-2006, Ah, mazza che piccolo che sei, e ancora non c'era la cosa, c'era Fibra, che era uscito con Applausi per Fibra, c'era Fuori dal Tunnel, non c'era un cazzo, c'era Giovanotti, c'era Giovanotti, c'era Giovanotti, i Sangue Misto, ma non li conoscevo, io poi ho conosciuto, i Truce Clan, i Club Dogo, del 2007, e lì mi è stata aperta, tutta la cosa, comunque nel 2006, mi ricordo, era Terza Media, che c'era appunto, ti ricordi che Fuori dal Tunnel, e Applausi per Fibra, era quel punto? pure Mondomaccio, mi ricordo, dentro una scatola, però prima c'erano sì, Caos, Neffa, Sì, poi sono molto autocritico, quindi, non è che ne parlo con molto piacere, vedo sempre tutto come un fallimento, però è buono, e poi tutti, cioè è buono pensarsi un fallimento, perché se no, se vuol dire che uno c'ha l'ego scoppiato, e non arrivi da nessuna parte, quelli che si credano sto cazzo, io ne ho visti tanti in questi 30 anni, sbruciamo, così, capito, e finiscono, anche se magari, cioè alcuni dice, cazzo, ma quando finisce questo, che è una merda, però finirà, lo vedete, io lo aspetto al barco, però quello che volevo dire, che tanti comici sono, hanno questa vena malincomica, cioè, è un po', e io la vedete questa vena malincomica, e lo mettevi anche nel rap, quindi che è stata vena, quello che scrivevi? Sì, 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 ma io scrivo ancora, pure se non ho un blocco, tipo, non riesco a far niente, quant'è che dico, da quando te conosco, sono sette anni, magari da prima anche, sì, dal giorno che ho smesso, che poi ho smesso, perché avevo perso tutti i file del computer, a causa di un incompetente, l'ho perso tutti i testi, poi l'ho ritrovato col tempo, e avevo pure il blocco, di andare lì a cercare, perché c'ho tipo un hard disk, di un tera, con dentro tutte quante cose, che hanno come nome tutte lettere, tipo, quindi io sono dovuto andare, in realtà recentemente, pensate, qualche mese fa, durante un periodo, un po' di malinconia, a ricordare il passato, a vivere foto, ad andare a vedere tutte quelle canzoni, e tra tutte le canzoni, che erano le mie vecchie, che si erano confuse, tra tutte le canzoni che ascoltavo, quindi sti cosi senza titolo, solo con lettere, trovai la mia prima canzone, da quando avevo tredici anni, che avevo la voce di un bambino, non l'avevo neanche sviluppato, ma mi sono fatto un pianto, tipo infinito, e là mi è tipo partita la cosa, e lì ho iniziato proprio, a scrivere in una maniera molto diversa, però ho il blocco creativo, perché mo' c'è stata tutta avanti alla cosa, dello youtuber che fa le canzoni, ma tu non lo devi mettere, tu fallo, just do it, fallo e basta, non devi dire cosa sei, sento un peso addosso, tipo di, sei tu che te lo stai mettendo, ti rendi conto, sei tu che ti metti il peso addosso, c'è una cosa che io, privatamente, cioè io ho molto sta cosa, pure in certi rapporti umani, che do tanto valore a qualcosa, e ha tanto valore, se lo so solo io, che ci sta, anche la non condivisione, anche che ne so, a far vedere che esiste qualcosa, è una cosa strana, che sto anche in difficoltà a spiegare, non mi stavo a parlare con Simone l'altro giorno, io sto capendo invece, cioè che quindi, e questo vale tantissimo con la musica, nel senso che è mia, e sento che se la faccio sentire pure a qualcun altro, la imbastardici, la imbastardici, sì, è come se la rovinassi, è come se svanisse quella magia lì, quindi non lo so, però anche sotto sotto, è anche paura, c'è una paura, certo, come no, la paura del fallimento, la paura che faccia schifo a tutti, a me fa impazzire, però magari farà schifo a chiunque altro, la figuraccia, tante cose, capito, di non, ma voi veni con noi, a condurre il podcast, sia secondo me, gli ammolli proprio, io, già stare a schifo, quarta testa del cerbero, stare a bomba, magari, ma ogni tanto, veniamo qua, facciamo il punto della situazione, ma volentieri, guarda, come stiamo, perché, vabbè, qualche, qualche, qualche rito sciamanico, volendo, dici, no, io quello già ho fatto, non live, non live, non live, ma poi io non ho parlato, le cose che mi fate, magari ritrovo i suoi libri, e ve le facciamo, quando vuoi passare, tanto, l'indirizzo ce l'hai, ma scusa, mi hai fatto in mente una cosa, sì, ma tu prima hai menzionato Abel Ferrara, no, ma non avete fatto un film su Padre Pio, dove ci stai pure tu, ma che cazzo di film ha fatto, che fine ha fatto quel film, perché io l'avevo visto, eh, non lo so, dice qualcosa, con le buffe, Padre Pio, che secondo me, avrebbe dovuto prendere il tono di Francesco, che è il nostro amico, però vabbè, ha preso le buffe, io ho visto questo film di Abel Ferrara, che io amo la follia, il cattivo tenente, per me è uno dei film più belli della storia del cinema, ma non è mai arrivato, noi abbiamo fatto un sacco di film, e questo è l'ultimo film che abbiamo fatto insieme, l'abbiamo girato in Puglia, nei posti proprio di Padre Pio, con Charles LeBouf, proprio tremendo, diciamo, io ho fatto questa scena, a un certo punto, il giorno prima facciamo le prove, io e lui, a Abel non gli frega un cazzo, perché a lui gli piace l'improvvisazione, invece lui voleva le battute, e allora gliel'ho provato 80 volte, 80 volte, e finiva e ricominciava, allora ridammi le battute, poi è arrivato sul set, non lo so, era il primo giorno di prese, si è incazzato, mentre io dicevo, io dovevo dire che tipo, avevo avuto delle fantasie sessuali, sui miei figli, che ero mezzo pedofilo, perché facevo il maschio, che ero mezzo pedofilo, e lui si incazzava, non si doveva incazzare, mi doveva, era Padre Pio, e lui, il pissone che avevano bucato, il pissone che avevano bucato, si è incazzato come una iena, get the fuck out, Padre Pio dice, oh ma è uscito dal personaggio, ma l'ha tenuta quella, poi era così, e poi l'ha tenuto get the fuck out, bellissimo, e tutti, nelle critiche hanno detto, ma Padre Pio che dice get the fuck out, secondo me non gli ha portato bene, quello in Italia, per essere, ma infatti, io quando ho visto, che non usciva in Italia, ho detto, secondo me hanno dissacrato troppo, la figura di Padre Pio, c'erano pure altre scene, di tentazioni, però prese dai diari, di Padre Pio, tentazioni, il merchandising, dei Padre Pio in Italia, sono finiti, bravo, ma guarda che non sto scherzando, esattamente così, perché in realtà, sono usciti un sacco di film, sulla religione, o docufilm, che hanno avuto distribuzioni, tanti, forse anche su Padre Pio addirittura, quelli sono usciti, questo no, perché erano convenzionati, certo perché, perché andava bene, poi non lo so, magari il film è una merda, non lo so, non l'ho visto, però di base a Berferrara, in ambito religioso, un po' come Scorsese, hanno sempre toccato, e beh cavolo, c'è qua la scena dentro la chiesa, e quindi ho detto, secondo me non lo fanno uscire, e porca traia, non sono riuscita a vederlo, non si vede, lo prende, piratalo, oppure me lo compro, c'è la edizione Blu-ray, estera, ah estera, perché c'è il DVD che legge tutto, sì, ah, sì, e in America è uscito, però non avete, non l'avete fatto in italiano come dialoghi? No, il film è tutto in inglese, perché lui, lui vive in Italia, Berferrara abita pure da vicino, no, non parla, vive da dieci anni, non parla, è di origine italiana, dice solo tipo, Capu Col, Capu Col, invece William Defoe ha imparato bene in italiano, William Defoe ha imparato bene in italiano, e io, il primo film che ha fatto in America era di Ferrara con Defoe, che era il primo film che facevano insieme, e Christopher Walker, io avevo 22 anni, porca d'ora che tu mostri, mamma mia, però là mi ha sbloccato, mi stavo cagando sotto, e Abel Ferrara mi ha detto, dice, sei tanto interessante nella vita, è qua che fai, mi ripeti la scena nello stesso modo? Sei interessante come sei nella vita nel mio film, e ho detto, ah ma posso improvvisare, posso andare, fai come cazzo, ti muoviti, e lui lascia molto spazio, e no, lui si aspetta da te, che tu non fai mai la stessa cosa due volte, invece, come attore uno fa la cosa, ah l'ho fatta bene, fammi la rifa uguale, ma perché? Se l'hai fatta bene, inventati qualcosa, non la inchiavardare la scena, perché tanto ce l'hanno, al montaggio la possono usare, allora inventati un'altra cosa, eppure l'altro attore così si diverte, e questo me l'ha insegnato a 22 anni. E invece registi molto più, duri da questo punto di vista, cioè devi fare quello che ti dico io e basta? Nanni Moretti, quando avevo 13 anni, lui era proprio nazista di sceneggiatura, ho fatto ripetere una scena, 80 volte, che mi dava una pallonata in testa, e io ero piccola, mi ero messa pure a piangere, ma lui in imperterrito, poi non si capiva che voleva, perché stava pallonbella rossa, era tutta una forezza, non si capiva che voleva fare, e stavamo tutti in là, e lui non stava bene, sì, quello era bello mattarello, cioè fissato su una cosa che non puoi capire, capisci, quindi nella sua solitudine, però io lo stimavo tantissimo, ero felice di lavorare con lui, infatti però non mi ha più amato. Invece quando hai deciso di metterti tu dietro la macchina da presa? Ho deciso. Quando è uscito il film lo so, che è 2000, però quando hai deciso, hai capito che potevi fare pure quello, tra l'altro l'ho rivisto ieri. Ah, scarredeva. Eh certo, io faccio i compiti a casa, ripassino. E avevo 23 anni, avevo appena lavorato con Abel, e avevo in mente un altro film, un film di guerra, e lui mi diceva, tu devi fare la regista, io fai più di mio padre, nel senso, è stato lui a spingermi, e io dicevo, cazzo se me lo dice lui, e allora ho voluto fare quel film là un po' estremo. A me devo dire piaciuto, Biacco è già all'epoca, l'ho rivisto ieri, bello, cioè sembra un trip quel film, cioè entri, ma è montato in maniera veramente particolare, le transizioni che ci sono, tra una scena e l'altra, ti dà un senso di, non so come descriverlo, un senso di, non disgusto, è una sensazione spiacevole, che tu provi mentre lo vedi, poi vabbè ci sono delle scene ovviamente, che vanno in quella direzione, tipo quella del produttore, ovviamente, però in generale, già come parte, senti proprio un magone, che ti arriva, anche dalla struttura proprio che hai scelto tu al montaggio, secondo me, non solo dalla sceneggiatura. Era proprio come mi sentivo in quel momento, era proprio un fastidio, un disgusto, stavo come transizionando, là durante quel periodo sono diventata la dark lady, prima di quello, un po' vuoi per mio padre, un po', cioè secondo me è stata dark lady, ci pensavo, proprio in questi giorni, io sono diventata questa cosa, un po' per accontentare mio padre, nel senso per essere un'estensione di mio padre, perché, io sono andata via di casa a 17 anni, per avere un rapporto con lui, essendo lui un po' un narcisista, diciamo, lui si accorge di te se tu sei come lui, capito, e quindi io per essere vista da lui, sono diventata un po' come lui, però io prima di diventare la dark lady, facevo dei film normali, verdone, venivo apprezzato, voglio dire, Viola bacia tutti, erano tutti film, commedie, cose normali, anche tu sei anche simpatica, nel senso hai sempre avuto pure questo approccio, molto ironico, no? Sì, e poi però mi sono incubita, è successo pure che quello, ma violentato, tutto è morto a mia sorella, è successa tutta una serie di cose, che sono diventata la dark lady, ma io combattevo, dicevo, ma io non sono una dark lady, ma invece lo ero, cioè lo sono stato, ero proprio, già avevo sentimenti, cioè pensieri, visioni dark, disgustate, dal cinema, dalla, da sta vita, e, molto produttivo proprio, sì, cioè da, da sta macchina trita carne, e secondo me arriva con quel film, devo dire che, cioè, ci sono delle sensazioni di quel tipo che arrivano, quindi, alla fine, quando hai concluso il tutto, com'è stato, com'è stato accolto il film? In Italia, perché io ero troppo piccolo, però, sì, in Italia, non è stato apprezzato, invece, però poi il film è uscito in tutto, all'estero sì, infatti, in America, nelle sale, in Francia, in Francia, tipo, il secondo successo più grosso italiano, quell'anno, che era un film, che era costato, tipo, 100 mila euro, cioè, erano lire ai tempi, il primo film in digitale, mai fatto in Italia, e io avevo 23 anni, quindi, tante soddisfazioni, è andato ai festi, a Toronto, eccetera, ha avuto una lunga vita, ancora oggi le ragazzine se lo vedono, perché si identificano in quella, c'è una forza, io ve lo consiglio, ragazzi, guardatelo, perché, è pure su Prime, tra l'altro, ho visto su Prime, perché arriva, ovviamente, cioè, dal punto di vista formale, era qualcosa di diverso, cioè, in Italia non si facevano film di quel tipo, c'era una produzione, magari, o più strutturata, per film ad alto budget, però quello appunto, un film digitale, questo montaggio un po' particolare, era il periodo di Dogma, capito, era il periodo Dogma, il periodo di Armoni Corrine, di quelle cose, la Svontriere, la Svontriere, l'Armoni Corrine, facevano, Scarlett Diva, ragazzi, il film, il nome, del 2000, no? è girato il 99, è uscito il 2000, sì, e poi il secondo film che ho fatto, negli Stati Uniti, non so se l'hai visto, quello è stato veramente pesante, ma ne parliamo la prossima volta. Ok, la prossima puntata. Altre invece, esperienze sul set assurde, che ti ricordi, non per forza citare, registi, attori, però cose strane, è successo. Assurde, ma anche fuori da sette. Anche divertenti, per forza. ci sono sempre cose, vabbè, ci sono, naturalmente, le scene di sesso, che sono sempre assurde, c'era un'altra, un attore, non so perché mi è venuta in mente questo, l'attore puzzava, veramente puzzava forte, e tutti dicevamo, scusa, ma una cosa oscena, cioè non si sa, proprio non ho mai sentito una cosa così, e io mi ci dovevo rotolare, fare, era tremendo, e la truccatrice dice, once I'm the other, no, no, e quindi mi ricordo questo disgusto, vabbè, è entrato nel personaggio magari, un'altra volta, una scena di sesso, con Michael Madsen, sai, l'attore di Tarantino, come no, come no, sì, quello che gli taglia l'orecchio, ne riguarda, quando un film con lui, pazzo, perché gli attori sono, questo ubriaco, come una, felicità ubriaco, mamma mia, sì, tutti ubriacchi, tutti fatti ubriache, in sapannomi e tutto, no, ma la modifica, prima del ciac, quanto è gettonata, la bottarella, no, perché in generale, qualsiasi tipo di sostanza, ci stanno degli attori, che stanno fattissimi, e anche da sobria, mi capita, per esempio, ho lavorato poco, con un attore, fattissimo, ubriachissimo, non si reggeva, fino a giornata, cascava per terra, era una cosa imbarazzante, e io gli ho detto, ero otto mesi sobrio, ho detto, guarda, io non, e lui ha detto, ora vedremo la fine del film, se la pensierà, se sono riuscita, resiste, hai tenuto, e lui, prima di girare le scene dei baci con me, si attaccava la boccia, di rum, e poi mi baciava, e io dicevo, madonna, sono tipo il vampiro, no, perché magari mi viene una zanna, capito, con la goccia di rigore, poi voglio bere, invece no, mi ha fatto talmente, cioè, l'identificazione nella sua forezza, mi ha ricordato talmente, tanto la mia, e quanto, facevo schifo, la facevo calare, si, si, sempre così, quando la vedi dall'esterno, si, ti fa sempre un po', paura, te la fa calare, si, ti fa calare, dice no, non voglio tornare indietro così, non voglio vivere così, Michael Madsen, una volta appunto, stava fuori, non volevo uscire dalla roulotte, stava fuorissimo, ubriaco, strellava, con la moglie, se me andava, e il regista, che era un francese, Olivia Stagliassi, mi diceva, ma lo chiami? Io, perché? Ha avuto un timorino, la senti a te. Sì, vabbè, lo chiamo, un po', boh, boh, vieni sul set, che dobbiamo girare, perché poi là c'è gente, capito, c'è tanta gente, in un giorno di lavoro, costano a te, costi che sai, per un attore, lì è arrivato, ha spaccato i piatti per terra, li ha scalpicciati a piedi nudi, si è rotto tutti i piedi, non lo so, poi dovevamo fare una scena di sesso, e lui, e io gli dovevo dire, tu di la parola schiavo, e lui non voleva dire schiavo, no, e mi ha morso la fregna, in che senso, scusami, in che senso ti ha morso la fregna, non ho capito, cioè durante la scena ti ha morso, durante la scena, durante la scena, io stavo in mutande, era tutta una cosa un po' strana, io con la cravatta lo strangolavo, capito, non è che era, diciamo, una scena normale, lui stava fuori, però mi ha morso la fregna, la fregna, ma che gli hai detto, quando ti ha morso? Aia, giustamente, e poi, cioè, poi ho detto, vabbè, il film, succedono queste cose, così, io cerco sempre di normalizzare, perché per campare, no, dici, se no che faccio ogni volta, mi tu, no, non si può, quindi, the show must go on, però, alla fine della giornata di lavoro, mi ricordo che c'erano tutte queste finestre, e io andavo per salutare il regista, e ho preso la finestra, e sono cascata per terra, e stavo fuori, per dirti, quindi, dopo il morso la fregna, non mi ha lasciato, così, un po', mi ha toccato, anzi, tanto, la sera ho pianto, ricordo che stavo insieme a Marco, a Morgan, che stavo a Parigi, a Chiamai e Pianzi, però poi il giorno dopo, mai ero dimenticato, invece, la più grande soddisfazione che hai avuto in relazione a questo mondo, cioè, proprio che, un giorno che hai detto, cazzo, oggi è il mio giorno, quando mi ha chiamato Gas Van Sant, per me è stato, ero veramente felice, più di quando, che ne so, io ho vinto due volte Davide Donatello, che ero ragazzina, ecco, questa è una cosa strana, che sto riflettendo, a 18 anni ho vinto il Davide Donatello, non me l'aspettavo, poi ai tempi era diverso, c'era, te lo dava proprio il presidente, non so se era Scalfa, io che cazzo era che mi aveva dato il presidente dell'Italia, della Repubblica, mi ha dato sto premio, io ero andata all'alto a 18 anni, poi tornai a casa da mio padre, c'evo sto premio, e ho detto, guarda, e lui mi ha detto, beh, e sti cazzi, ha detto, eh sì, ok, e io per anni ho detto, ah, vedi, perché i premi non è importante, importante è il lavoro, non so neanche, perché è vero, così ho voluto vedere, certo, però manco che forza di sti cazzi, brava, brava ha voluto prendere, no, e quindi ho detto, i premi sono schifo, fanculo, infatti, poi l'ho rivinto due anni dopo, che non pensavo a 21 anni, hai detto pure di sti cazzi, sono stata orrenda, quando l'ho vinto, perché, quando me l'hanno, cioè, non pensavo di vincerlo pure là, mi chiamano, Milli Carlucci poi, mi chiama, dice, ah, ha vinto il premio, salgo sul palco, mi fa, io tutta contenta, mi ero preparato il discorso, che io non so preparare se è candidato, voglio ringraziare, e lei mi fa, allora, com'è per la figlia, di un famoso regista, vincere questo prestigioso premio, a me, e là mi è venuto l'orgoglio, l'orgoglio, tipo, oh, la figlia, la moglie, ho detto, oh, guarda che l'ho vinto già due anni fa, com'è, grazie, ciao, e mi sono andato, e poi tutti, chi è sta stronza, capito, e mi sono comportata da stronza, vabbè, se vinci in Boscar, però, quest'anno, se te lo fanno vincere, non c'è tratti male, ma io non l'ho mai sognato, che era l'Oscar, no, ah, il Boscar, ah, ok, il Boscar, fammelo vedere, li facciamo, questo è bello, questo, questo, ecco, questo non lo metto con gli altri, che io li tengo tutti sopra il frigo, questo me lo metto accanto al letto, perché questo, questo è inquietante, questo è un cervello, eppure, no, non è rotto, no, no, non è rotto, questo, o devi vincere questa, o devi vincere, o ce la metto tutta, magari ritorno un paio di volte, così entro nei cuori, sì, questo è l'unico che dai ragazzi, no, il nome, beh, questo è il premio per il miglior cattivo, diciamo, il miglior villa, sono, ho letto un nome che mi ha fatto schifo, questo è il premio per, diciamo, la persona che cerca di distruggerci, ah, vi vogliono distruggerci, ogni giorno, ogni giorno, ma là o qua? ovunque, sono ovunque, escono dalle fottute pareti, esatto, e noi però siamo democratici, diamo anche i premi, per quello che giustamente, ci ha messo più in difficoltà, vengono qua a metà casa nostra, a mettervi in difficoltà, spesso anche a casa nostra, che passano di qui, sì, succede, succede, vi imboccano, capita, succede, passano di qui per caso, quando non è preso, ovviamente non è così, si erano preparati, con le cose cattive, ma sai perché, perché molti, non so come te, che magari stanno tranquilli, accettano le critiche, persone che se ne parli, diventi il loro nemico, se fai una critica, argomentata, poi non è che dici, questo è un pezzo di merda, e basta, no? Fai una critica su qualcosa, di grave, o addirittura metti in luce, dei reati, delle cose, dei reati, reati con la guardia, no, non è che fanno, la segnalazione, però nel senso noi, oltre a questo, facciamo delle piccole inchieste, delle cose nostre, e quindi ovviamente, ah, quelle vi imboccano, è cattivo, fanno di tutto, fanno di tutto, fanno di tutto, aliasi cosa possibile, cioè, sia online, che offline, io a casa mia, sto tranquillo, la casa mia è registrata, come indirizzo di, c'è i coccodrilli fuori, Gianluca, no, vabbè, c'è mio padre, c'è Canepazzo, che è pericolosissimo, io dico, io ho paura che venite, su casa mia, ma per voi, e poi ce lo rimette io, capito, perché se si fanno male, poi, il tuo padre è Canepazzo? Sì, De No Me De Fatto, un messaggio, ma invece, il buon Vin Diesel, com'è su set, che tu hai fatto XXX, no, Xander Cage? Sì, una brava persona, veramente, si dice una cosiddetta pasta, simpatico, era un momento della sua vita, strano, perché aveva appena, avuto quel successo, pazzesco, lui era passato da film, magari un po' più, dei nicchia, sì, piccoli ruoli, pure un film, ha lavorato pure, Seven Private Ryan, però ero piccoli ruoli, poi, ha fatto quel film, è scoppiato, lo ricordo, quel film, è un boom pazzesco, quando è scoppiato, quindi, capito, un po' il cervello, là in America, di essere famosi, io l'ho vissuto, quando ho fatto XXX, che stavo in copertina, su Rolling Stone America, ho vissuto quella cosa, è come quando Gesù Cristo, arriva il demonio, gli dice, guarda, puoi avere tutta la città, e tu dici, ma, ti senti da l'anima, no, dice no, l'anima magari te la do, capito, e a Hollywood, c'è questa sensazione qua, proprio, puoi avere tutto questo, se mi dai la tua anima, infatti, perché è stato un momento importante per te, cioè nel senso, raccontaci un po', come l'hai vissuta, ti dico di lui, che era una persona fantastica, ci sfondavamo di canne, era, cioè, ridevamo un casino, e io gli cucinavo, mangiavo tutti i giorni, la pasta al ragù, era proprio simpatico, e poi il film finisce, e ci si perde di vista, però, io ho avuto un successo là in America, che già, capito, dopo anni che avevo avuto, grazie a Dio, tanto successo qua in Italia, lavoro, tanti film, che mi arriva a sta cosa, il grande successo in America, che uno l'ha sognato, chi non l'ha sognato, il parlatore a Hollywood, però non ero pronta, cioè nel senso, ero pronta abbastanza da dire di no, capito, io mi sono, un po' come dicevi te il discorso prima, che non glielo volevi, capito, che quando, non glielo volevi far vedere, io, avrei potuto, in quel momento, avevo la gente di Johnny Depp, c'avevo tutti, capito, tutti mi leccavano il culo, perché, avevo avuto 5-6 copertine, tutti, il film box office, campione box office, in America, nel mondo, e avrei potuto, e venivo inquadrata, non più come la Dark Lady, ma come quella che chiamo, la kick ass chick, sì, tipo, la action, la action, la action forse, e io dicevo, ma io sono un'attrice seria, pure, non mi identificavo in questa cosa, io sono un'attrice seria, poi non lo sono, anzi, a me mi diverte un casino, fare film d'azione, però non volevi l'etichetta, non volevo l'etichetta, la Sergento è la Dark Lady, è la action, sì, esatto, non volevo l'etichetta, io poi volevo fare il mio film, il mio secondo film da regista, quindi, era come mi sono trovato a un bivio, faccio, e mi hanno chiesto di fare Fast and Furious 2, e altri film d'azione, commedie, mezze d'azione, così, oppure, fare il mio piccolo film da regista, quella, era, e io ho scelto il mio piccolo film da regista, e per questo, secondo me, io sarei schiattata, se avessi fatto, quell'altra, perché, non sono, troppa pressione, non sono fatta per quel tipo di vita, di sottorifettori, di, di, di mascherarsi, di, di fare il film, hey, how are you? Capito? Quella vita di merda là, non gliela potevo fare, quindi, falsa, è finzione, tutti finti, tutti che, che ci stanno a sto gioco, e dici, ma com'è possibile che state a fare, cioè, ci credete veramente? sono tutti attori, però, anche nella vita, essenzialmente, fuori dal set, ti sembra di stare, in questa cosa, rischi davvero di impazzire, rischi davvero, durante l'intervista, vieni tutti a fanculo, perché poi, una certa, penso che ti scoppia la testa, magari, dici, I'm like shit, sto di merda, molite tutti, bestemmia, cose, e finisce malissimo, capito? quello che dici, lo viviamo pure noi, nel nostro piccolo, in questo ambiente, di Twitch Italia, io mi immagino, gli ego spropositati, degli attori, hollywoodiani, che cosa può accadere, proprio? Ammazzo le con i ragazzini, le insicurezze, ragazzi, sono le insicurezze, sotto l'ego spropositato, si nasconde le insicurezze, di questi, che hanno 100 persone intorno, e quello è il personal stylist, e quello è quello, che gli dice, vestiti così, fai colì, e questi tutti, come dei robottelli, però, io non riuscivo a fare, sto gioco, mi sembrava un gioco infame, e allora, ho fatto partire, sto treno, non ci so salito, il codietto bivio, cioè lì, tu potevi scegliere, magari, se avessi scelto Gravia, oggi, saresti nel Fast and Furious, 75, o saresti morta, capito? una spada nel braccio, capito? è assurdo, però dici, no, voglio fare quello che, quello che voglio fare, come direbbe Gianluca, quindi, hai scelto di fare quel film, sono obbligato a fare come cazzo voglio, però poi so quello che devo fare, non è che faccio proprio come voglio, so quello che devo fare, ma mi sento comunque, che sto fatto come voglio, e quando voglio, però, so quello che devo fare, pure se a volte, deraglio, loro lo sanno, a volte magari deraglio, però, è una cosa che mi fa, sta bene, capito? Perché magari, aver più successo, aver il numerino più pompato, aver più soldi, guadagnare di più, diventa una droga, però sta male, non lo accetto, io preferisco più, come voglio io, che, però, so che sto a fare quello che devo fare, pure perché io te ne rispetto al gruppo, non sto da solo, perché poi ci credi, se si le cazzi miei, fare ancora di più come cazzo me pare, non avrei orari, per dire, Vabbè, questo. Finiresti col crederci, e perderesti di vista, quel bambino, che ha 13 anni, scriveva quelle cose, esatto. E non bisogna mai scordarsi da quel bambino, perché è dentro di noi, il puer eternum. Sì, perché, perché uno, quando è piccolo, ha più l'abilità, di poter percepire, dove sarà. Quindi, la mia missione, è il punto finale, il tragitto, deve essere fatto, di comfort, di tranquillità, e di benessere, a prescindere da come vada, ma, senza uscire mai dal binario, che ti porterà, a quel punto lì, dice, io la vivo un po' così, capito? Quindi, non so cosa accadrà, ma so, cosa accadrà alla fine. Beato te. Io non so, quello, come va alla fine. Eh, ma tipo, adesso, non ha interesse, nel fare un film? Da regista? Ma che sei matto? No, no, è un hobby troppo costoso, ad esempio, cioè, fare film d'autore. Costa tanto. Fare film d'autore, fare film in generale, proprio. Fare film in generale, però, cioè, uno dice, vabbè, se io fossi in grado, di scrivere in grado, perché non sono, di scrivere una commedia, un film commerciale, ci sai, trovo qualcuno che me lo fa, ma i film che mi vengono a mente a me, sono talmente fuori, che, trovare i soldi che te lo fanno, due anni della tua vita, ti pagano due, veramente due lire, se ti pagano, stai due anni, che non puoi fare altri lavori, e devi stare appresso a questo, e poi, cioè, costa troppo, è troppo dispendioso, allora preferisco fare l'attrice, nei film degli altri, che poi, se il film è bello o brutto, vabbè, non te ne frega nulla, hai fatto il tuo, nel senso, no vabbè, magari ti interessa, però hai fatto il tuo, certo, il massimo di quello che potevo, non c'hai potere su quello, ovviamente, ma, a proposito di recitazione, a me è piaciuta moltissimo, la tua interpretazione, in un capolavoro, secondo me, che è la terra dei morti viventi, di Giorgio Romero, che tra l'altro è morto da pochi anni, buon Giorgio, io lì, mi sono innamorato di te, in quel momento, sì, quando arriva la scena, che te buttano nella gabbia, e io, in me non ho gli zomi, con gli zomi, ho detto, ok, raccontaci un po' anche quel set, com'è stato? Quello, mamma mia, ecco, sembrava quell'attore, io sono addestrata, sono addestrata, ma avevano capito, che funzionavo meglio, come mignotta, Sì, non mi ricordo, perché poi in inglese, eh beh, certo, certo, allora, il film, io ero felicista di lavorare con Giorgio, che, che, dai tempi di Scarlett D, avevano lavorato con Giorgio, e beh, tu l'avevi conosciuto già, che era Grip Show, no? Non avevo lavorato con papà però, sì, avevo lavorato con papà, gli avevo pure prodotto, zombie, la notte di, no, la notte, l'alba di morte, l'alba di, sì, quello che in Italia è zombie, Don't have the dead, sì, aveva fatto l'edizione italiana con i Goblin, non ne so, con i Goblin, bravo, sì, quindi erano amici, avevano già lavorato, però io non lo avevo frequentato, quindi quando mi ha chiamato, ero felice, sono fan, e poi durante, il film si girava sempre di notte, tutto il film di notte, per due mesi a Toronto, un freddo della Madonna, quindi, quando io non giravo, dovevo rimanere svegliato di notte, perché sennò cambiavo il bioritmo, sì, allora, insomma, gli davo dentro, ho iniziato a fare la DJ per quello, perché ho conosciuto tutta la scena di Toronto, mettevo dischi nei posti punk, oppure nelle feste, anche feste SM, mi chiamavano, io non so, ero lanciatissima nella vita notturna di Toronto, amica di tutti, con potenziata, insomma, da sostanza di vario tipo, potenziata, e poi dopo sul set arrivavo tutto un po' stralunata, infatti mi ricordo che proprio in quella scena là, a un certo punto cadevo e doveva essere un po' il beauty shot, cadevo e c'era il truccatore che cercava di coprire le occhiaie, diceva, non c'è il cazzo da fare qualcosa, le metteva le luci, perché ho aprito le occhiaie, però per il resto era divertente, poi c'era mia figlia che era venuta a trovarmi sul set, con Marco Morgan, non riesco a chiamare Morgan, non le farete Morgan, Marco, Marco e Anna, Lu, sul set, e Anna aveva cinque anni, c'erano tutti i zombie, molto, sembrano veri, i trucchi, quelli sono clamorosi, i trucchi, Greg Nicotero le aveva fatti, che è quello che ha fatto, quello famoso, la serie, che io non ho mai visto, quale? La famosa, Walking Dead, ah ok, ok, lui, che il suo maestro era, Tom Savini, Tom Savini, che è stato quello storico, di Romero, come no? sì, e vabbè, insomma, c'erano molto, facevano paura, a sti zombie, e una volta, ci stavano portando, sul set in macchina, questo zombie, molto cupo, e non so, io gli chiedo una cosa, cercando di sdrammatizzare, per mia figlia, di cinque anni, e dico, no ma, non ridere, gli dico, he's not laughing, non ride perché, ha il make up, che sennò si sgredola, e lui ha fatto, no, non so perché, no, non è per quello, che non rido, era proprio così, incazzato di su, cioè io mi immagino, la figlia di cinque anni, in mezzo, a un set, con centinaia di zombie, a cinque anni, è bello, e poi magari, rimanevano, nel personaggio, anche perché, truccato così, che bello, ma a livello di, tipo, direzione attoriale, com'era lui, come approccio? Non dava direzione, ognuno, lui era contento, i registi, e lui, mio padre, questo tipo, i registi di genere, preferiscono, se sei tu, che porti, infatti lui, per esempio, io non mi zombificavo, però, lui agli zombie, non diceva come bisognava farli, perché voleva che ognuno, trovasse lo zombie suo interiore, capito, che tutti siamo morti dentro, bello, bello, e, e, i registi di genere, non ti danno molte direzioni, vogliono che sia tu, a portare il tuo, la tua, cioè, la cosa un po', primal, di queste emozioni, capito, che, che, è un po', sono tutte, cioè, è come l'opera, è teatro, è esagerato, questo cinema, è proprio, wow, cioè, emozioni portate all'estremo, non è un cinema d'autore, dove tutto va misurato, le azioni, tutto è portato all'estremo, grandi gesti, grande urla, però, allo stesso tempo, poi, è primordiale, quando vai a cercare, le emozioni, quelle, proprio, la paura, cioè, vita, morte, queste cose qua. Invece, con tuo padre, tu hai fatto, allora, aiutami. Ho fatto Trauma, primo film a 16 anni, La Sindrome di Scandale, che è il miglior film, secondo me, che abbiamo fatto insieme, e poi, abbiamo fatto, Il Fantasma dell'Opera, sì, poi abbiamo fatto, La Terza Madre, che era, la terza madre, che era, la chiusura della trilogia, Sospiria, Inferno, c'è la scena del bambino, che cade là dal ponte, al cinema, mi diede, guarda, una delle poche scene, in tutta la mia vita, che mi ha dato, una botta, sulla colonna vertebrale, io mi ricordo, ho fatto, ma oddio mio, è bruttissimo, c'è padonna mia, quella scena là, poi come sale, beh, non facciamo spoiler, eccessivi, sì, porca, mia figlia aveva detto, cattivo nonno, quando aveva visto, beh, giustamente, a me, la terza madre, non mi è piaciuta, mi è dispiaciuto molto, perché per me, gli altri due, sono dei capolavori immensi, ma pure Inferno, Inferno, con mia madre, brava, ma infatti la stessa cosa, ne parlavo, sai, con Federico Frusciante, che è un altro ragazzo, che parla di cinema, e parlavamo l'altro giorno, sia sulla tua recitazione, che all'estero funzioni, quindi una critica, sui registi italiani, e altre robe, però spesso, parliamo di questo, cavolo, Suspiria, Inferno, sono due capolavori, il terzo, non lo fa e scrive a Dario Nicolodi, che cazzo, cioè, è assurdo, è proprio snaturato, cioè, pure Inferno sottovalutatissimo, ma secondo me è bellissimo, per me è il mio film preferito, è il mio, se mi assospiria, sono legalista, il segreto è sotto la suona del tuo scarto, quando va sotto, mamma mia, veramente, e secondo me appunto, quell'esoterico, che veniva da lei, cioè, sicuramente lui, il film è suo, perché là c'è tutta poi una diatribe, per loro non voglio entrare, vabbè, cavoli loro, cavoli loro, però, quella cosa, chiaramente, lei sapeva molto di più, sulle streghe, su queste cose qua, per lui, per quanto può aver letto, lei, cioè, aveva centomila libri di questa, ha conosciuto persone, insomma, era molto farina, del suo sacco, quel mondo esoterico, peccato che non, perché si sentiva che, mancava quella verità, esatto, quel, sì, sì, non c'era, è bravo, non c'era, quella base, che ti rendeva, credibile il film, cioè, nel senso, quel cosiddetto patto narrativo, quello che ti dicevo prima, pure sul tuo primo film, non c'era quella sensazione, capito, strisciante, che trovavo sempre nei film, di tuo padre, cioè, anche magari quelli che mi sono piaciuti, di meno, però c'era sempre quella cosa, pure fenomena, no, che tu lo vedi, c'hai sempre una sensazione, che ti mette a disagio, quello deve fare un horror, secondo me, cioè, gli horror di oggi, per esempio, se ne salvano pochissimi, perché sono tutti strutturali, che te lo fanno, il jumpscare, quindi, ah, che cazzo non è horror, cioè, c'hanno lo, o schemino, è vero, bravo, vede proprio, che devono seguire, sembra, che seguono l'algoritmo, quasi, sì, sì, sono sempre, sono fatti proprio, prevedibili, vabbè le cose prevedibili, mi fanno schifo, sì, sì, uno che era bravo a farli, che tra l'altro, si ispirava tantissimo a Dario, che è James Wan, ovviamente, cioè, lui era molto James Wan, ah, James Wan, che mo' sta a fare, i Fast and Furious, nel senso, pure lui che era bravo, infatti, lui raccontò proprio, che col bambolotto di Profondo Rosso, tipo, rimase folgorato, e da lì, infatti, inserisce sempre, cose così, nei suoi film, però pure lui, poi ha fatto Aquaman, quando iniziano, iniziano sempre con l'horror, ci sarà un motivo? Allora, perché comunque, il genere, attraverso il genere, e anche altri generi, che ne so, Sergio Leone con il Western, attraverso il genere, c'è uno schema molto preciso, però tu all'interno di questo schema, fai conto di una stanza piccola, diciamo, ma qua puoi fare il cazzo che ti pare, capito? Quindi nel genere, all'interno di quello schema, tu puoi essere libero, molto più che, in un genere più accettabile, o in un drama, capito? In un film drammatico, in un... Cioè, un linguaggio più semplice, ma che lo puoi tramutare, beh, tu pure ami Giorgio Romero, quella è politica praticamente. Sì, 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 però poi il genere horror, ho notato che poi è diventato la citazione, della citazione, della citazione, un rigurgito, continuo, no? Quindi, boh, è quando una cosa diventa... anche con la musica, è così, anche con la musica è la stessa cosa, i generi musicali, e poi diventano tutta una citazione, nella citazione, finché poi non implodono. È per questo che uno va sempre a sentire i classici, alla fine, cioè, i veri innovatori non hanno nulla a che vedere con quello che c'era prima, proprio perché sono nuovi. Però chi sono gli ultimi innovatori? Cioè, nel senso... Dovremmo tutti perdere la memoria, collettivamente, tutta l'umanità, perché ormai gli schemi di quei grandi, che hanno fatto le cose per primi, per puro, come posso dire, culo, fato cosmico, sì, culo, culo è meglio, hanno preso, diciamo, il posticino, il trono, per meriti, però la memoria è troppo potente, è più potente dell'originalità ormai, io penso. Quindi, è per questo che siamo sempre meno, secondo me, speranzosi nel fatto che ci sarà qualcosa di nuovo. però c'è anche il fatto che noi ci siamo ascoltati questi classici, abbiamo visto questi film, e sono entrati a far parte del nostro subconscio, quindi manco ci rendiamo conto che stiamo facendo una citazione, pensiamo, guarda che cazzo di idea geniale ho avuto, non ti ricordi di quello che è il Diderio Argento, Jimmy Hendrix, la solo di Jimmy Hendrix. Se sei un narcisista che pensi che sei un genio, che solo te puoi avere le idee, è tutta un'idea tua. Se sai, se sei consapevole di tutto l'universo, che tutto è condiviso, non esiste l'idea mia, l'idea tua, ci sta un grande mare di idee, da dove noi traiamo questo, si potrebbe vivere pure un po' meglio, credo, cioè meno aspettative, e seguire sempre lo schema di quello che ce l'ha fatta, quindi ho paura di uscire un po' fuori, perché è bello lo schema, ma è comunque uno schema. Però infatti solo attraverso gli errori, uno può fare qualcosa di nuovo, non so se avete notato. Io sento che scarreddiva queste cose qua, io non me ne prego un cazzo, dicendo ma questo non si può fare, proprio per questo va fatto, perché se vogliamo fare, forse solo attraverso gli errori potremmo fare qualcosa di nuovo. È come si vede prima, che l'attore che cerca sempre di fare la stessa cosa bene, a che palle, che palle, compitino, si modifica, ma è la base della rottura, che ne so nel punk, o nel cinema, anche nella nuova, cioè rompiamo le regole, perché diventa un nuovo codice, e tu rompendo quelle regole lì, crei potenziali nuovi canali comunicativi, che se no, giustamente se uno dici, ok, queste regole funzionano, nell'horror, se alzi la tensione, perché non succede niente, la musichina parte piano, poi l'alzi improvviso, e spunta fuori qualcosa, ok, lo facevi col bambolotto in profondo rosso, in quel momento funzionava, hai fatto, parti 50 anni, forse, forse, ci siamo pure un po' rotti i coglioni, no? le regole, sto manualino, poi crea banalità, ripetitività, rompe le regole, invece, penso che sia la cosa più creativa possibile, che uno può fare, sei per forza imprevedibile, perché uno magari non si aspetta, si è abituato, poi devi prendere la merda, ovviamente, sì, esatto, basta la porta, perché poi il 90% delle rotture delle regole, sono merda, magari pure vera, e il 10%, forzate sì, perché molte volte uno dice, se è troppo pensata, se è troppo scritta, per una certa diventa banale pure quella, no? Sì. Perché magari vuoi far leggi, vuoi far cose, vuoi farti bene. Secondo me le cose devono essere proprio naturali, naturali, volute, che te parte da dentro, Già che ci pensi troppo, già lascia aperto. Per rispondere alla tua domanda, chi le ha scritte le regole, sicuramente non gente come noi, gente che, quelli proprio che ci hanno la fissa di dover controllare, che spesso non hanno belle età artistiche, se vogliamo, gente più quadrata, che hanno un tipo di personalità anche molto, sui dati, sulla concretezza, sull'ordine, che però non si può avere solo quel metodo, per interpretare il mondo circostante, bisogna avere un connubio, secondo me, tra attitudine da improvvisatore, e base di regole, però è difficile, perché c'è chi magari sta più sul lato schematico, e chi più sul lato, voglio improvvisare e basso. Femminile, maschile e femminile, caos o ordine? Sì, anche. Siamo tutti, però, tutti siamo sia che controllo, che fuori controllo, scegliamo, e il massimo è trovare, cioè, una felicità in mezzo, ad oscillare fra queste due cose, perché il controllo, guarda, ce l'abbiamo tutti, che vogliamo controllare, gli altri, vogliamo controllare il nostro pensiero, vogliamo controllare quello che facciamo, il nostro lavoro, come ci vestiamo, come invecchiamo, come scopriamo, come maniamo, tutto, vogliamo controllare. Però allo stesso tempo, poi dall'altra parte, è che sbacchiamo, e mandiamo tutto a puttane, cioè, una felice via di mezzo, una felice via di mezzo. Diciamo, io vedo, esercitare il controllo, come voler essere un dio, cioè, sugli altri, però tu lo vedi come, uno sopra, che controlla sotto, però, lo facciamo anche noi, nelle nostre vite, continuamente, sugli altri, anche i nostri genitori, o i nostri figli. nascono, secondo me, le insicurezze, le ansie, proprio il malessere. Sì, il risentimento, sentire di nuovo la stessa cosa, le paure, nascono tutto da questo controllo. ti fai un'idea di una persona, la persona ormai è quello, deve soddisfare l'idea che ti sei fatto, di lei, se no, perché è come, come un film dove ti aspetti che un attore deve fare quella cosa. Sì, che tu però hai deciso tu, che cavolo deve fare tutti quanti, cioè tu sei l'attore e il regista del film della vita di tutti, cioè io sono, delle volte mi rendo conto, che vorrei che tutti facessero come dico io. Invece ognuno vede sto film da un punto di vista completamente diverso, metterebbe la macchina presa in un'altra parte, tu vedi il film da questa volta. Ognuno sta al centro del proprio universo, no? Poi se tu preferisci per te il regista che ti dice, fai come cazzo te pare, perché non lo fai te con gli altri? Sì, esatto, no, io invece preferisco uno che mi dice, non come mio padre Giorgio Mero, uno che mi dice, fai così o così, che mi dice un'idea, e allora, che mi illumina, che è giusta, tipo Albert Ferrara, ecco, lui è il mio grande maestro, lui ti dice quelle due o tre cose, perché ha capito così bene il personaggio, e la storia che sta raccontando, veramente è stato là a cervellarsi, che ti dà due o tre idee, che il personaggio è tuo, ti aiuta a trovare il personaggio. Poi da lì c'è un margine magari, dove puoi, sì, di libertà totale, di libertà totale, non è un controllo, diciamo, c'è più un'indicazione. Sì, ti aiuta a tirare fuori il meglio di te. C'hai dei, non voglio chiamarli trucchi, però dei metodi per la preparazione di un ruolo, tu? Sì, ho dei metodi, la cosa più importante è la concentrazione, perché per quanto uno può preparare un ruolo, soprattutto del cinema, che è effimero, cioè io posso stare qua a farmi le pippe, a pensare faccio così, faccio sto gesto, faccio, ma non serve a un cazzo, perché tanto stai là, e il giorno il regista è così, il costume è così, le scene sono diverse, quindi è inutile farsi troppo le pippe, cioè sognare, immaginare il personaggio, assolutamente, tipo che tic, ah, che cos'è, che cosa viene, sapere tutto del personaggio, come si profuma, cioè com'è. Gli crei un background. Sì, creare un background che sai tu, che non per forza devi condividerlo con gli altri attori, anzi, meglio di no, o con il regista, se lui è uno di questo tipo di scuola, lo condividi, se no, fai da solo, però te lo devi fare, perché se no, non ha senso, cioè devi capire perché reagisce in questa maniera. E poi dopo, sul set ci sono varie tecniche di concentrazione, perché la cosa più difficile di tutto è quella, cioè tu stai tutto il giorno, magari in una roulotte, in un camerino, a volte non c'è manco quella a aspettare, perché tu vai davanti alla macchina e fai quei tre minuti, capito, e poi la rifai un'altra volta, e se sei fortunato fai tre volte, ok, basta perché tutti si sbrigano e devi passare al controcampo. e quindi come mantenere la concentrazione tutto il giorno per quei tre minuti e poi altri tre minuti fra due ore. Quindi ci sono delle tecniche, ormai vi servirà. Volentieri. mindfulness, che neanche cose così. sono simili, però sono proprio per rimanere sensoriali, sono di concentrazione sensoriale, di rimanere nei propri ricordi, ricordi che ti servono per quella scena, capito, devi avere un bagaglio di conoscenza di te stesso da usare di volta in volta, secondo quello che richiesto. il fatto di concentrazione è legato al fare l'attore comunque, cioè all'interpretare un personaggio. Sì, cioè al personaggio, che tu come attore, c'è un arsenale che è studiato della tua esistenza, tipo, che ne so, che ti fa piacere, cosa ti fa, capito, cosa ti fa emozioni. Un'emozione, riviverla in quel momento, per appunto, far sì che si veda che stai provando quell'emozione, però tu prende un ricordo che ti riscatena quell'emozione là. Sì, che magari ti porta nel mood e poi dopo tu lo apprichi a quel personaggio in quella scena, che però non è che stai pensando più a quando è morto il pesce rosso, stai pensando anche a quello là, capito, è morto tuo cugino nel film, che magari è una persona che ti sta sul cazzo e non ti frega niente di quell'attore. L'emozione però la trai comunque. Sì, la trai dal tuo vissuto. Rubbo una domanda dalla chat, tra l'altro sono contenti che scrivono penso sia l'ospite più a suo agio di sempre, top live. Allora, c'è un ragazzo che ha chiesto, giustamente, non mi era venuto in mente, cosa ne pensi dello sciopero degli sceneggiatori, degli attori che hanno fatto insomma lì a Hollywood? Me lo chiedono in tanti. Allora, io vivo un po' fuori dal mondo, c'è da dire. Ma anche la tua posizione sui temi specifici che ne sono visto, c'è il discorso streaming, ah, praticamente, essenzialmente, ma se sei rimasto un po' fuori, sono un po' fuori, il dibattito è intanto sull'intelligenza artificiale, quindi possono prendere la faccia d'Asia Argento, deepfake o la voce d'Asia Argento e bisognerebbe almeno normarla un po'. E poi c'è un discorso pure legato a... Cioè io c'era la porno star che si chiama Asia d'Argento, cioè l'ho lasciata a fare, nel senso poi posso usare la mia faccia, magari fanno il film porno più bello mai fatto con la mia voce e tutto e tanta gente magari mi fanno recitare meglio di quella che sto a fare io, cioè dovremmo essere contenti, invece di lamentarci, magari ti fanno questa, oh, è intelligenza artificiale, il problema è che se leggi che questa intelligenza artificiale, i programmi che hanno rilasciato sono all'acqua di rose, molto semplici, sempliciotti, invece quella vera che stanno ancora tenendo nascosta, ci vuole uccidere, il desiderio più grande di AI è farci fuori a tutti. Guarda Marco, guarda che io e Marco siamo d'accordo su questo, cioè che le macchine prenderanno il posto degli esseri umani, su questo siamo molto d'accordo io e Marco. Sì, Marco ci sta lavorando diciamo per farsi alleate, ma non basterà Marco, sappilo, cioè non ce la farei mai, perché si ribella sempre la macchina, in tutti i romanzi distopici e di fantascienza è così, non ce la fai mai. e come ci uccideranno le intelligenze artificiali? Questo non lo so, perché ho letto solo un articolo e l'unica cosa è perché tu ti rompermi le palle su sta, oh allora che ne pensi? Io dico, io me la salvo e dicono, ma noi in Italia non abbiamo questo problema, perché in America è una, no però, è vero, se pensi in America il cinema è la più grande industria, insieme a quella bellica e quella farmaceutica, quindi, una grossa industria, hanno interessi, eccetera, quindi, però in Italia il cinema che è, non mi vuole un cazzo, non mi guarda nessuno. Ma fanno fino a questo che si è offeso, che usano le cose, la voce sua. Chi? Fanno fino? Fanno fino, sì. Ah, si è offeso? Sì. Dice, non si può. Non devono usare la mia voce per dire le cazzate. Ah beh, ma tanto preferisce dirle lui le cazzate. Io perlomeno dico, non è la colpa mia, l'ha detto AI. Mi ha fatto in mente vari spot, per cazzo, da Tim. No, va beh, il punto è sempre basta che me pagano. Basta che me pagano. Quello è. Cioè, quando io lavoro, magari vado del culo. E' quella la cosa. Cioè, lavoro passivamente, quelli usano la voce mia per farmi di cazzate e già le dico gratis. Da fastidio giusto se te leva qualcosa a te. Cioè, nel senso, devo far sto firme io, non lo faccio io, è pieno di intelligenza artificiale che mi simula, là mi girerebbe il caldo. Sì, ma non lo fanno. Però se è una cosa in più, magari mi fa pure pubblicità, Sì, mi fa pubblicità. magari mi fa pure ride. Beh, poi ovviamente c'è sempre il modo per utilizzarli, per utilizzarla in maniera... Eh, per esempio, ieri abbiamo visto un filmato di Mara Venier che consigliava un investimento sicuro con Elon Musk. Ovviamente non era lei, cioè, roba a luce, un metodo di guadagno assoluto. Era credibile, sembrava. No, perché... Allora, no, non hanno ancora rilasciato le vere. Non era credibile. Mara Venier sono i programmi quelli che si sembrava. Non era credibile, però, sai, magari per una persona anziana, non così avvezza, però, no, ancora siamo agli inizi. però, se l'andazzo è questo, e comunque questo è di basso costo... Eh, grazie, Eddie, per 10 sappe regalate, grazie mille. Vabbè, comunque, ci uccideranno, sono d'accordo con te, Asi. Sì, vabbè, intanto moriremo tutti prima o poi... Io spero che, io spero che ci uccidano, ma siano così potenti le macchine da creare infinite simulazioni per ognuno di noi. Sì, ma poi chi li vede se siamo morti tutti? Loro, fra di loro ridono. Loro ricreano le simulazioni, però noi viviamo all'interno di quelle simulazioni non sapendolo. Viviamo per sempre? Sì. Potenzialmente? Sì. E però senza sentimenti come loro? No, no, con falsi sentimenti, con tipo Blade Runner, con i ricordi inseriti. inseriti. Vabbè, basta, qua sto sparando troppe cazzate. No, vedi, io non so un cazzo di queste cose, mi dovrei formare, però sono un po' fontica, non capisco. Questa è una chiacchierata, quindi non ce ne frega un cazzo. No, è come la politica. Dobbiamo per forza fare come ti dicevo l'intervista che... Anche perché quando... Grazie Alex. Grazie Alex. Mia moglie ha regalato 10 sub. Grande. La mamma di Asia. Eh, ma che ci faccio che sub? No, tu niente, noi so sordi, so abbonati. Ah, ok, Non so mangiare. So gli abbonamenti, gente che si abbona, o che regala gli abbonamenti alla chat in maniera casuale. Per dire, questi 10 vanno a 10 persone casuali, fortunate, che stanno seguendo la web in questo momento. E loro gli arriva così come un AI e decide l'abbonamento a chi va. Casuale, ti dice... Sì, sì. Beh, allora, Asia, l'abbiamo tenuto abbastanza, penso, spero ti sia trovata bene, noi, la paura. Un'ora e quaranta, minchia. Eh, no, ma guarda, sei invitata quando vuoi, ci mandi un messaggio. Ci mando la clip, le cazzate di Pannofino. È già pronta, vedi, tu short. Perfetto. Bellissima. Tocca. Eh, sì, sì, conosci Lupus in tabula? No. gioco di ruolo, molto antico. Mi piacciono i giochi di ruolo sessuali. Se può fare la variante sessuale. Possiamo fare la versione erotica. Sì, erotica, sì. Quello è divertente. Se può fare, se può fare. Sì. Bene, grazie Asia, ciao ragazzi, un abbraccio. dobbiamo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare. Ciao, ciao, la telecamera è spente, ciao. Che scuoli? State arrivà! È l'ho! Crocian! Questa nuova! Sione! Questa fortissima treno! Questa fortissima treno!